Ieri sera al Teatro Margherita è andato in scena un classico della Disney come il Re Leone, adattato con le musiche della banda San Pio X, dirette dal maestro Valerio Antonio Palumpo, e dalla scuola di danza Ballet Academy, dell'insegnante Giada Paterna. Tre spettacoli andati tutti sold out, con il teatro pieno che è stato apprezzato da grandi e bambini. Soddisfatti a fine spettacolo il vice sindaco Grazia Gian Musso e l'assessore Fabio Caracausi, che sono rimasti entusiasti della risposta della città e hanno invitato a seguire gli altri eventi natalizi presenti all'interno della Piazza del Natale, che si concluderanno l'8 di gennaio.